25 settembre 2022, gli italiani sono chiamati alle urne. Oggi siamo insieme ad Angelo Caroccia, candidato alla Camera dei Deputati Lazio 01 P03 per azione. Allora, buongiorno Caroccia. Siamo qui per spiegare quali sono alcuni dei punti fondamentali del suo programma. Partiamo con la sanità. Diciamo noi come partito di azione su questo territorio ma anche nel collegio in cui io sono candidato ma anche è una cosa nazionale che il nostro leader Calenda sta portando avanti in tutta Italia è un po' una focalizzazione maggiore sul punto della sanità dove in Italia abbiamo delle carenze abbastanza marcate. C'è un impegno forte dei nostri medici, infermieri e personale sanitario quindi noi riconosciamo il massimo impegno dei nostri uomini e donne sui vari territori ma bisogna dare un maggiore impulso a chi va, a chi si soffrisce del sistema sanitario creando e dislocando la sanità in più punti del territorio in modo da raggiungerla immediatamente creando anche dei punti polispecialistici nei vari territori. Quindi voi puntate anche nello snellimento delle liste di attesa? Prima cosa nello snellimento delle liste di attesa ma un punto vicino ai territori punti più omogeni che rigadono su tutto quanto il territorio. Per quanto riguarda i giovani, voi chiedete maggiori fondi dedicati alla creazione di strutture per loro? Intanto dobbiamo cominciare a pensare più ai giovani creando più lavoro per i nostri giovani ma creando anche delle zone di svago per i nostri giovani quindi dallo Stato centrale devono arrivare dei fondi che fanno sì che danno dei punti di svago di creazione ma anche di struttura verso questi ragazzi dove aggregarsi, dove trovare un punto di ritrovo, dove trovare un punto di svago e anche di socializzazione. Il tema della sicurezza, voi chiedete un maggiore impiego di forze dell'ordine e di polizia privata sul territorio? Sì, è una cosa che sta sotto gli occhi di tutti il paese Italia è un paese che sta facendo grandi sforzi quindi il popolo italiano è un popolo straordinario ma abbiamo bisogno anche di creare una certa sicurezza per i nostri concittadini la sera non bisogna avere paura di girare quindi bisogna essere più incisivi con la parte legata alla sicurezza creando anche una serie di assunzioni in primis delle forze dell'ordine questo è scontato ma bisogna creare anche, secondo me, una rete con le forze di polizia minori che sono sul territorio creando anche una rete di controllo e di comunicazione tra le forze di polizia stessa, Polizia, Carabinieri, Finanza ma anche guardie giurate di vari enti, di vari settori che potrebbero collaborare con Polizia, Carabinieri per far sì che la sicurezza abbia una rete di comunicazione più veloce e più sintetica. Concludiamo con un altro argomento che è l'energia rinnovabile e sostenibile che cosa proponete? Sì, noi tutte le sere basta accendere la tv giorno e sera e vediamo che i nostri governanti sono in televisione a parlare di risparmio energetico di come affrontare questa situazione però oltre alle parole non stiamo vedendo null'altro quindi io credo che nel comune di Fiumicino è stata fatta una cosa abbastanza semplice quindi è una cosa che non ci vuole un grande scienziato per far sì che avvenga in tutta la nazione faccio l'esempio di Fiumicino perché io governo intanto insieme a Giunta Montino questo comune di Fiumicino lì abbiamo 10.000 punti luce di illuminazione pubblica la prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo trasformato di 10.000 punti luce tutti quanti a led questa trasformazione a led di 10.000 punti luce ha fatto sì che c'è stato subito un risparmio sulla bolletta elettrica quindi dei soldi in più questa non è una tasca dei nostri concittadini ma anche un risparmio sulla CO2 quindi sulle emissioni dell'inquinamento atomosferico quindi questo è stato fatto immediatamente con uno sforzo iniziale ma adesso stiamo raccogliendo già i frutti la seconda cosa che abbiamo fatto ed è in atto è l'autonomia energetica di tutte quante le nostre scuole compreso gli stabili comunali quindi parliamo di circa 50 stabili sul territorio che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intanto trasformato a led tutti quanti i punti luce sulle scuole e sugli stabili l'altra cosa che stiamo facendo abbiamo messo dei generatori dei pannelli solari sui tetti che li stiamo montando mano a mano e dei punti di trasmissione di energia che raccogliono i pannelli solari e trasmettono sugli vari apparati quindi è stato uno sforzo abbastanza semplice l'abbiamo fatto con un project che per l'amministrazione comunale è stato a costo zero quindi secondo me se i nostri governanti capiscono che questa cosa che è stata fatta viene trasmessa in tutto il territorio avremo in poco tempo un dimensamento dei costi e del consumo di energia Per concludere il suo messaggio promozionale perché votarla? Perché intanto ho fatto l'amministratore locale ed un territorio come il comune di Fiumicino per tanto tempo quindi alla fine c'è una certa struttura già fatta quindi non prendiamo persone improvvisate come è stato fatto nel passato quindi cerchiamo di prendere gli amministratori che abbiano un minimo di esperienza la seconda cosa è perché c'è una serietà c'è una passione veramente forte per i territori ma per il nostro paese Italia perché è un grande paese quindi dobbiamo dare il massimo per far sì che usciamo da questo momento un po' particolare Spieghiamo nel dettaglio come possono votarla Sì, è abbastanza semplice sulla scheda rosa che sarà dato presso il seggio di appartenenza basta mettere una croce su calenda e azione e il voto sarà diretto al sottoscritto Sì, è abbastanza semplice